Al comunale di Rocca Spinalvetti, i padroni di casa della Dinamo cercano conferme dopo il roboante successo esterno col fossa cesa 90. Ma l'avversaria di turno non è una cliente abbordabile, trattandosi della San Salvese, con pagine di rango ugualmente vittoriosa nel turno inaugurale, con tre punti messi in cascina ai danni dell'Odorisiana. I ragazzi del presidente Trofino, rivoluzionati rispetto alla passata stagione, hanno operato una campagna di rafforzamento poderosa, con elementi in grado di fare la differenza, ed è quindi legittimo etichettare i biancoverdi come una delle papabili al salto di categoria, al pari della stessa San Salvese. I ragazzi di Mr. Grimaldi iniziano subito in avanti, esercitando un evidente predominio territoriale, soprattutto nella prima mezz'ora di gioco. Il risultato potrebbe già variare al quarto, ma la trasversale si oppone al gran siluro dal limite di Battista. Due minuti dopo, Cilli viene graziato anche da Di Matteo, la cui girata in area spedisce la sfera a spegnersi a fondo campo. La pressione biancoverde è costante, ma gli ospiti reggono l'urto e limitano i danni anche all'ottavo, quando è ancora Di Matteo a tentare la sortita su palla inattiva, con esiti poco esaltanti. Il meritato vantaggio roccolano arriva al diciannovesimo, grazie a Luciano, che si libera al tiro e fulmina Cilli, con un gran sinistro dalla distanza. La reazione della truppa di Mr. Turchi non si palese efficacemente, ed è anzi la Dinamo ad insistere in avanti per chiudere la pratica. Al venticinquesimo l'estremo ospite è reattivo per annullare il destro in area dell'avanzato D'Alessandro e rischia poco dopo sugli sviluppi del conseguente tiro dalla bandierina, ma in questo caso il destro dell'avanzato Fiermonte, a ridosso del vertice d'area piccola, si alza abbondantemente sopra i legni della porta biancazzurra. Dinamo ancora attiva al ventisettesimo, quando ci prova anche Battista, che dalla media distanza spedisce sopra la trasversale. La prima presenza significativa della San Salvese si evidenzia allo scoccare della mezz'ora, anche se il temibile spioventa il centro di Rossi, si vanifica con la posizione irregolare dei suoi compagni d'attacco, ravvisata dal signor Saraceri di Vasto. Al trentaduesimo la gara potrebbe arrivare ai titoli di coda, visto che i biancoverdi hanno la possibilità di andare a calciare dal dischetto. Il tiro di rigore è assegnato dal direttore di gara, che ravvisa l'intervento falloso di Natale su Di Matteo, e lo stesso bomber Roccolano ad incaricarsi della battuta, ma Cilli disinnesca la conclusione accartocciandosi sul primo palo. La frazione va a chiudersi con l'invitante spiovente da fermo di Piccirilli, che va a pescare Battista, il quale cerca di staccare verso la porta avversaria, ma la sfera si spegne di un niente a fil di palo. Alla ripresa dei giochi, Cilli è reattivo per azzerare la girata ravvicinata di Di Matteo, che tenta la battuta su un suggerimento dalla corsia di destra. La Dinamo è devordante, ma la finalizzazione è inversamente proporzionale al numero di occasioni create. Al sesto tocca a Battista, che non riesce ad intervenire adeguatamente sul prezioso suggerimento in area di Di Matteo. Parentesi ospita il nono, anche se la conclusione di Madonna si spegne al lato e vanifica una buona trama corale della sua squadra. I ragazzi del presidente Trofino si riorganizzano e al quattordicesimo creano una nuova opportunità, con l'ottima pennellata dalla destra di Fabiano, che Cilli azzera con una tempestiva uscita dai pali che mette fuori causa l'appostato Battista. Se la Dinamo ha una grossa occasione per raddoppiare, ma è fallita da Luciano, che manca lo stacco ravvicinato su un invitante spiovente dalla destra, la San Salvese è sicuramente cinica, visto che fa fruttare una delle poche iniziative messe in mostra nell'arco dei 90 minuti. È il ventiduesimo, infatti, quando Madonna pesca il jolly al culmine di una persistente offensiva d'attacco della sua squadra, culminata appunto con una gran conclusione dal vertice d'area che va a sorprendere Bruno, infilato sul primo palo. Nonostante il pareggio San Salvese, è sempre la squadra di casa a fare la partita, ma la dea bendata non sembra essere dalla parte dei biancoverdi di Mr. Grimaldi, che al venticinquesimo vanno a caccia del nuovo vantaggio con il diagonale in area di Luciano, di poco sopra i legni di Cilli. Al ventisettesimo i locali invocano per ben due volte il tiro dal dischetto a distanza di una manciata di secondi. Nel primo caso il direttore di gara fa correre sul contatto in area tra Di Matteo e Civico. Nel secondo la decisione del fischietto aragonese è analoga sul tocco di mani di Natale che intercetta una conclusione ravvicinata di Luciano. Ancora Dinamo al trentacinquesimo, in questo frangente Cilli è il baluardo decisivo per fermare la devastante penetrazione in area di D'Alessandro. Al quarantesimo il San Salvese Lamberti aggancia ottimamente al limite d'aria e si gira la battuta con la mira che non lo sorregge adeguatamente. Gli ospiti sfiorano il sorpasso al minuto 43 quando Bruno è costretto a distendersi, aiutato in questo caso dal legno traverso per neutralizzare il perfido pallonetto dalla distanza del neo entrato di Santo. Se i tiri in porta della San Salvese si chiudono in questa circostanza, il Festival dei Legni si arricchisce nelle fasi che precedono il ritorno negli spogliatoi. Prima bisogna rilevare il tentativo di Luciano che penetra pericolosamente in area e dal fondo crea scompiglio tra le maglie difensive e San Salvese. Cilli, come detto, viene salvato dalla sua trasversale in due occasioni consecutive e ravvicinate. Al quarantaseiesimo è il neo entrato Ninni a centrare i legni con un diagonale in corsa dalla media distanza, prima del rompete le righe, e ancora il numero 18 a vedersi negato il raddoppio con modalità analoghe. Risultato che sta obiettivamente stretto ai roccolani. San Salvese cinica che porta a casa un punto prezioso in chiave playoff. Mister Grimaldi della Dinamo Rocca Spinalveti, oggi avete praticamente dominato per, mi pare, più di 70 minuti. Non siete riusciti a vincere la partita. Hai detto bene, abbiamo dominato in lungo e in largo, soprattutto nel primo tempo avremmo fatto almeno sei occasioni da gol. Purtroppo non abbiamo concretizzato e come nel calcio succede spesso, alla prima palla ci hanno punito e hanno pareggiato. Abbiamo avuto qualche altra occasione, palle, traverse, però non è voluto entrare. Ci dobbiamo tenere questo pareggio amaro. Ecco, mi sembra che dopo il pareggio c'è stato un po' di scollamento tra i reparti, forse avete perso un po' le misure. Sì, abbiamo perso un po' le misure. Sicuramente i carichi di lavoro e della preparazione qualcosa si sente ancora. Comunque a livello psicologico non è facile, dopo aver creato tante occasioni, trovarsi in parità. Sono stati dieci minuti in cui abbiamo perso un po' la distanza dei reparti, però poi abbiamo continuato ad attaccare fino alla fine. Purtroppo penso che Paolo Cigli, il portiere della San Salve, sia stato il migliore in campo. Ecco, senza dubbio il portiere del San Salve, migliore in campo, alla fine avete anche rischiato di prendere il gol del 2-1. Sarebbe stata una beffa incredibile. Sarebbe stata veramente una beffa incredibile, però ci siamo andati vicino. Per fortuna il nostro portiere ha salvato e riuscito a rientrare in porta in tempo e poi ci ha salvato la traversa. Perché purtroppo il calcio è questo, abbiamo subito un tiro e mezzo in porta, abbiamo rischiato pure di perdere. Ecco, dalla prossima forse ci servirà un po' più di concretezza comunque. Questo è certo, stasettimana lavoreremo soprattutto sui tiri in porta, perché così da diventare un po' più cattivi sotto porte, perché partite del genere non si possono buttare via così. Sono punti importanti buttati via, però per fortuna il calcio ti dà la settimana dopo la possibilità di rifarti. E' ancora chiaramente prematuro, siamo appena alla seconda giornata, ma diciamo qual è l'obiettivo principale della Dinamo? L'obiettivo con la rosa che abbiamo e ce la giochiamo con chiunque incontriamo, sia dentro caso che fuori caso. Dopo è normale che alla fine conteremo i punti e vedremo i risultati. Però ce la giochiamo con tutti, con rispetto di tutti ma senza paura di nessuno.